Tanti dubbi, affolano la tua mente, tanti misteri Prima Valerio ti ha tirato fuori come lui, disse come Armando Eh, zack, perché sono vestiti di nero E invece Mario con la giacca Mario con la giacca, ben lì, lui tanto lo sa che battute Però Mario mi ha chiamato Alton John, ho detto se gli ha riporti perché... Alessandro, sai perché mi ha vestito di nero? Perché sfina Perché sfina, io lo sapevo Alessandro Serra! Allora, grazie, scusate Questo caloroso pubblico, voi dovete sapere, dietro le quitte mi hanno dato Del vecchio, dell'ingraziato, pure del rimbambito, non lo so, del più che me volete fare Comunque no, io rubo pochi minuti per dire che anche voi siete giovani A breve, nella vita ci stanno un sacco di misteri che potrete capire Doviamo capirli un po' tutti questi misteri Se no, se parli con i scienziati, dici non sappiamo da dove veniamo Dove andiamo Dove mandano lo sai, soprattutto a mezzo al traffico, quello che si sa Però ci sono dei misteri che con voi in pochi minuti vorrei scoprire E magari anche voi mi potete aiutare Tipo, lei ci abbatte la mattina da sotto a letto Andovano a finire Tu ti vai a mettere a letto Chi è che... Mario, sei d'accordo? Tu ti metti e lasci lì Tarsi la mattina, perché non ce stanno? Una sta fuori in giardino e l'altra ambagucà all'angolo del letto È un mistero, un altro mistero mi lo dovete spiegare Ci facciamo la doccia D'estate pure, pure, non è così complicato d'inverno di più Ti fai la doccia Vai a prendere la cappatoio Mi dovete spiegare perché un braccio, un fili e l'altro sta all'arroescio Che poi devi stare due ore a litigare Che ripeto, d'estate, ma d'inverno se voglio vedere tutto fracico Sono misteri strani, ma vi lascio l'ultimo mistero Paola, sono andato a fare la spesa Tu dici, vabbè, che c'è di mistero? No, mi sono regato verso la parte dove ci sono e scatole di tonno Tu non puoi capire che... Non sto scherzando, chiedo Enia Se dico una bucina, ma potete confermare Allora, quando uno va a prendere tonno, Mario La famosa tonno, pure se i ragazzi lo sapranno Si spezza con un grissino, la sapete questa cosa? Vedi pure lui A parte che è una cavolata perché se non lo evita la scatoletta Che vuoi spezzare, è prima cosa Seconda cosa è una stupitaggine Perché tu quando lo apri dalla scatoletta Mezz'ora per farlo scissur Ti fai che forchette Se sfragna, quindi che vuoi È già sfragnato Quindi con il grissino ci puoi fare massimo la scarpetta con l'olio Quindi è già un'altra stupitaggine Detto questo, parliamo dell'olio Noi siamo abituati, vai a comprare Il tonno è Torno all'olio d'oliva Torno all'olio extravergine d'oliva Se no c'è la variabile che è Torno al naturale Non so se avete mai mangiato quello che si O mannigiute si incastra qua Non ce ne manca carci Proprio fatti Torno al naturale che te strozzi Perché proprio sei in catastro Ci avete fatto caro Tre litri d'acqua del bene Ho fatto sta scoperta Andate ai supermercati Io mi sono fatto mezz'ora Così sono rimasto L'ultima trovata c'è Torno pescato a canna Andate a vedere L'avete trovato? Ma che bordi? Mario Cioè a parte che Mi ha interessato come era preso Sto tonno Cioè là Ma tu vai al bancone Dalla macelleria Sovitello Come ha ammazzato Sovitello E questo come gli ha dato Dalla macella Cioè tu lo prendi Invece ora ti danno pescato a canna Che tu dici Vabbè ma a me che me lo mangio No? No? Pescato a canna Cioè che fa Che cos'è? Che a canna vuol dire Che è un po' più Fumicato Tu mangi sto tonno Che a me tu spicci Lo so io A canna che vuol dire? Cioè io Prima come si pescava? Tu quando sei andato a comprare tonno Sapete che si pescava reti? No Tu lo compri Apri No ma ti dicono pescata a canna E allora io ho pensato Ma forse vorremmo fare un'immagine romantica L'immagine del nonno Con il nipote Sua banchina A pescare sto tonno Solo che non hanno capito Che il tonno Sono nato su Wikipedia E il peso medio Sono dai 2,50 Agli 800 kg Tu immagini il suo nonnetto Con il suo nipote Ma come l'hai preso? La canna l'hai fatta te Che ha fatto sto tonno Scusate Vengo bene Sai com'è il tonno Quando lo tiri fuori dalla scatola? Che termine ha usato? Se sfragna Se sfragna Cioè io non ho mai trovato Perché dai foto Vabbè ma tutte le cose Dai dici al resto d'Italia Si sfragna Tu ma si È un po' tutto a pezzettini Perché è detto così Vabbè ma sfragna Lo sanno insomma Io dico Quando i bambini Te sfragno Io lo dico Nei mammi Certo Da Trieste in giù In giù Allora E' un po' tutto a pezzettini